L'ASLA 5 ha deciso di attivare il reparto di pneumologia dello stabilimento ospedaliero San Bartolomeo di Sarzana per il trattamento dei pazienti covid che necessitano un ricovero anche in dei hospital e per i nuovi ricoverati. L'azienda in una nota sottolinea che la decisione è arrivata a seguito del continuo monitoraggio della situazione ricoveri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. I pazienti covid attualmente ricoverati alla Spezia saranno gradualmente trasferiti nel reparto di pneumologia di Sarzana in base alla valutazione clinica dello specialista di riferimento al fine di garantire percorsi differenziati fra i due stabilimenti e creare così nuovi posti letto. L'unità di terapia intensiva già predisposta a Sarzana resta al momento in stand-by in relazione all'evoluzione del quadro pandemico. Tutti i pazienti che dovessero risultare covid-19 positivi, prosegue la nota, saranno trasportati dal 118 al pronto soccorso del suddetto ospedale dove è stata riattivata la postazione di pre-triage e sono stati tempestivamente allestiti percorsi separati sporco pulito, conclude la nota dell'ASL. I professionisti, medici e infermieri sono al lavoro per realizzare tempestivamente i nuovi assetti organizzativi.